Coriandoli, maschere, tranino, musica e divertimento per festeggiare l'ultimo di carnevale. Martedì 21 febbraio torna la festa in piazza Sant'Agostino. A partire dalle 15.30 le bambine e i bambini potranno salire sui vagoni dell'intramontabile tranino del carnevale dell'Orciolaia ed ammirare le maschere Disney, tra cui Migni, Topolino, Paperina, Paperino, Pluto e tantissimi altri. In piazza Sant'Agostino arriverà anche la wiki race. Attesa poi la partecipazione delle maschere barocche del carnevale dei figli di Bocco ed infine ad animare la serata alla musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Robi. Abbiamo creato questo evento che è un evento l'ultimo di carnevale dove la gente ovviamente sarà sia di giorno che di sera sarà un po' al giro quindi abbiamo pensato di convogliarli tutti in piazza Sant'Agostino per fare una cosa più bella insomma tutti insieme ci divertiamo di più. Ecco una giornata dedicata ai bambini, l'invito a presentarsi mascherati. Sì, non solo i bambini ma anche i genitori, più siate mascherati più ci divertiamo. Un'iniziativa fortemente voluta dai commercianti di piazza Sant'Agostino. Noi miriamo su questi eventi, intanto va fatto un ringraziamento veramente doveroso alle associazioni di caderia con me c'è confesecenti che veramente loro lavorano a tutto tondo per riqualificare tutto quello che è il centro storico. Noi siamo orgogliosi di ospitare numerosissimi bambini, vi aspettiamo tutti veramente con braccia aperte per farvi mangiare, bere, divertire e musica fino a tardanotte.